Per il centro romanesco Trilussa, per tutti coloro che amano la Romanità, un pezzo autentico di Roma e il fattaccio del vigolo del moro di Americo Giuliani. Sor delegato mio, non son boiaccia, fatemi scioglie, va riconto il fatto. Quando ho finito poi, mi rilegate, ma adesso, per piacere, non mi date st'umigliazione dopo tanto strazio. Vi ringrazio. Quello che ha pubblicato il messaggero nel fattaccio del vigolo del moro, sor delegato mio, è tutto vero. No, papantamme, voi ce lo sapete, sono stato sempre amante del lavoro. E' giusto che per questo mi chiedete come la mano mia che è stata avvezza a maneggiare la lima col martello, con tanto sangue fredda e sicurezza, abbia spaccato il cuore a mio fratello. Quando morì mio padre, ero fanello, andavo ancora a scuola, ma ricordo che benché morto lui in del canestrello, la pizza, la ricotta e il pizzudello, non ci mancava mai. E quella santa si faceva per quattro e lavorava, e la marinarella, le scarpette, a dire la verità, non ci mancava. Ho capito, mi dite danno al fatto, momento, e adesso la riconto. Abitavamo al vigolo del moro, io con mia madre e mio fratello Gigi. La sera noi tornavamo dal lavoro e la trovavamo accanto alla loggetta, buona, tranquilla, con quel viso bianco che cantava e faceva la garsetta. E ci baciava in fronte, sorrideva, ci ribaciava ancora e poi cantava Fior de Gaggia, io so felice soltanto con voi altri due, al mondo non ce sta, chi ve so mia. E mentre sull'incudine, il martello, sbatteva tutto allegro e rimbarzava, pur io nell'officina ripetevo Fiori in Fiorello, la vita tutta quanta, manco a dirlo, l'ho da passare con mamma e mio fratello. Poi Gigi si cambiò, si fece amico, con i più peggio bulli dell'Urione, lassò il lavoro, bazzicò il panico, poi fu preposto per l'ammunizione, di più, mi fu avvisato dalla gente che quando io non c'ero mio fratello andava a casa per far prepotente. Per garaghe, l'amichi, l'osteria, votava gli cassetti del commò e quel poco che c'era lì in famiglia, spariva a mano a mano. Lei però non rifiutava, non diceva niente, ma non rirideva più, più non cantava, mi madre bella, accanto alla loggetta, la ruta, l'icarofoli, l'erbetta che infioravano tutto il barconcino, tutto quanto sfioriva e se seccava insieme a mamma che si consumava. Una sera feci, «Ama, che vi sentite? Voi state male? Perché non me lo dite?» Non rispose, ma fece un gran sospiro e gli occhi gli esempirono di pianto. Nel vederla soffrì, pur io soffrivo, ma che avevo da fare? Chiamai al dottore, disse che era il male suo, stava nel core e che se fosse presa di spiacere, se non voleva morire, decrepa core. La sera stessa, Borsi parla con Gigi, lo trovai, gli feci, «Aggi, mamma sta malassai, non me la fa morire di spiacere, io voglio troppo bene, e tu lo sai che se morisse, beh, che to' da dire? Sarebbe come il core si spezzasse mentre lei guarirebbe se tornasse il tempo di una volta di quando eri buono, lavoratore. Ti ricordi?» Gigi mi fece una risata in faccia, alzò le spalle e poi mi disse, «Senti, senza che mi stai a fare tanti lamenti, faccio come mi pare e poi del resto, senti va bene, non mi guarda più in faccia, e me la so così, lì, sul cantone, col cuore sfranto, ritornai da mamma e la trovai davanti alla Madonna che pregava e piangneva, poverella, quanto mi fece pena. In quel momento, per vigoletto oscuro e solidario, un tesi Gigi cantà con aria bulla, fiorin d'argento, accoro mamma e non mi importa tanto, per l'occhi tua ci ho perso il sentimento. Allora fece, «Ma, se mio fratello ritorna a casa per far premotente, vi giuro che succede uno sfracello, no, per l'amor di Dio, vietto bello, Gigi non è più lui, è una passione, sono amici che l'hanno straportato. mi ha detto in bacio la benedizione e poi col viso bianco come c'era per non piangne e mi disse, «Buonasera». Io la mattina che successe il fatto, sarà stato che so, verso le sette, mi parve da sentire come una lotta. Mamma dice, «Oggi non ti compromette con tuo fratello, dammi quel brillocco e l'ultimo ricordo di tuo padre. E non ti scordate che so, tu madre. E che me importa a me del mio fratello? Si vossa già la punta del cortello, venga pure di qua». Beh, fu un momento. Sartai dal letto, spalancai la porta, mi hai messi le facce a mio fratello con le braccia incrociate sopra il petto. In quel momento mi parve di sentire una cosa calla, una cosa calla che saliva in faccia. Poi mi sentire gelà, fece, «Che vuoi? Io voglio che te ne vai senza che me fai più tanto il prepotente, senza che me stai affattando il bogliaccio». Mi madre, prevedendo la questione, si mise in mezzo per portare la pace, ma Gigi la scansò con lo spintone e poi mi fece, «A voi, Sor Santarello, ve ci vorrà una piccola lezione». Mi ha appena detto questo, ovi al cortello e mi si avventò addosso, «Mamma, si fece per rimettere in mezzo un frattanto che Gigi dà la botta e la scansai, ma mamma dà lo strillo e casca lunga lunga, detti un urlo di perva, gli strillai, bogliaccio, un famone scellerato, tu mi ha ammazzato, mamma, mi buttai come una verba sopra mi fratello, gli agguanti alla mano, gli strappi al cortello, ma gli giuntano sempre, me l'hai, me l'hai, me l'hai, me l'hai, me l'hai, mamma, mamma mia, manate Marco Eli, me l'hai, me l'hai, me l'hai, me l'hai, ma, mi, me l'hai, Grazie.